Amici, eccolo, per voi! Ve lo lancio? No, lo tengo io stretto stretto, Marco Marciano! Ciao a tutti, buonasera! Come stai? Tutto bene, a te tutto bene? Natale sta per arrivare, Marco. Come lo passi? Speriamo bene, dai! In famiglia, no? Vabbè, sì, è normale, è normale in famiglia, la famiglia è la cosa più bella. Allora, cosa ci regalerà intanto? Una bellissima canzone che fa parte della compilation di Natale 2015 e la canzone si chiama Easy Q Carnal Easy Q Carnal perché la dedico ai miei zii con un presto di torno a casa e un bacione forte, forte. Perfetto, da Marco Marciano è tutto, auguri, auguri, anche da parte sua per tutti i suoi fans, tantissimi, soprattutto le ragazze che sono qui. Fatemi sentire, fatemi sentire! Niente, si vergognano, non hanno voce, è il freddo comunque. Ok, Marco, diciamo insieme anche, cantiamo Napoli! Niente, si vergognano, non hanno voce, è il freddo comunque. Niente, si vergognano, non hanno voce, è il freddo, 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 è il freddo. Troppo tempo già è passato, quando agosto so cagnato, è pure so cresciuto, ma non vado mai scuritato. Niente, si vergognano, non hanno voce, è il freddo, è il freddo, è il freddo, è il freddo. Forse stai più bello, pure in un regalo, in ogni attimo, ogni passo che cammino, è stato sempre con me, mi voglio bene. Niente, non hanno voce, è il freddo, è il freddo, è il freddo. Niente, non hanno voce, è il freddo, è il freddo, è il freddo. Niente, non hanno voce, è il freddo, 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 è il freddo. Niente, non hanno voce, 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 è il freddo. Niente, non ha voce, è il freddo. Niente, non sa